Un po' da tutta la società abbia fatto intuire alle persone che in ogni punto in cui c'è un conflitto c'è un nesso con qualcos'altro. Cioè la differenza qual è? Che mentre prima sulla TAV andavano a guardare i filmati quelli che avevano deciso che la TAV era la battaglia fondamentale e sull'acqua andavano a guardare i filmati che avevano deciso che l'acqua era la battaglia fondamentale. Adesso è come se ci fosse un intreccio, per cui anche chi ha fatto l'acqua vuole capire meglio cosa c'è dietro la TAV e chi ha fatto la TAV vuole capire meglio cosa c'è dietro l'acqua, tutti vogliono capire meglio cosa succede in Grecia perché è come se si fosse un po'... Sì, 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 secondo me c'è stata una seminagione forte, lo dico anche sull'esperienza di ATTAC ATTAC ha cominciato dicendo subito di disarmare i mercati, è la finanza. L'ha detta all'inizio e all'inizio è stata vista tra virgolette anche come una cosa un po' astratta anche un po' in Italia, io ricordo Genova, nonostante poi è partita la campagna di ATTAC che è andata bene e ha raccolto le firme, però mentre tutti pensavano allo scontro con il VTO, lo scontro con il G8 noi dicevamo disarmare i mercati, la finanza e tutti dicevano quelli di ATTAC hanno ragione ma stanno sulle nuvole perché la battaglia è questa qui, il vertice. Quando poi noi abbiamo invece a un certo punto declinato lo stesso processo però partendo dai beni comuni cioè quando ci siamo resi conto che in realtà la finanza aveva invaso la vita delle persone per cui tutto era finanziarizzato e quindi lì è partita la battaglia dell'acqua, dei beni comuni eccetera il risultato finale che oggi siamo arrivati è che tutti dicono finanza ma ci sono arrivati attraverso un processo concreto e reale cioè non ci sono arrivati perché noi gli abbiamo detto finanza ci sono arrivati perché hanno sperimentato per anni cosa voleva dire la privatizzazione cosa c'era dietro, cosa voleva dire ripubblicizzare l'acqua, cosa vuol dire i beni comuni cosa vuol dire il fatto che se anche noi vincessimo e ripubblicizziamo l'acqua dappertutto se i soldi stanno in mano ai mercati finanziari non si può fare nulla quindi adesso il terreno è molto fertilizzato perché si possa sostanzialmente aiutare i cittadini, attivisti e persone a fare il passo successivo che secondo me non è più a valle dei processi cioè loro privatizzano e noi combattiamo la privatizzazione loro fanno una cosa e noi la combattiamo il problema è invece andare su quel terreno lì cioè cominciare a dire un momento chi l'ha deciso che voi fate le cose e noi dobbiamo opporci cominciamo a discutere chi fa le cose cioè quindi cominciamo a discutere il comune di Genova quando dice che IREN deve vendere degli immobili perché è indebitata che cosa significa? chi l'ha deciso con il debito? come ti finanzi tu comune? perché ti finanzi così e non in un altro modo? quali sono le priorità che metti sulla destinazione delle risorse? che partecipazione dei cittadini o della società o della città c'è dentro determinate scelte? perché diciamo è come se fossimo arrivati al nodo decisivo partendo da processi che hanno reso chiaro quello tant'è vero che noi siamo passati davvero dal private bello al private obbligatorio cioè quando loro dicevano private bello sostanzialmente miravano al cuore le menti cioè ci volevano convincere se io dico private bello sto dicendo una cosa che vi vuole convincere cioè vi dico, vi spiego una teoria per cui private bello voi mi avete dimostrato che non è vero cioè non che non è vero mi avete dimostrato che non siete d'accordo cioè il referendum ha detto chiaramente che quella idea lì è finita allora io non posso più venirti a dire private bello cioè non posso più venire a dire la TAV va fatta perché ci avvicina all'Europa o la TAV va fatta perché serve ad amodernerare il paese perché queste cose qui la gente non ci crede più il problema è che siccome gli interessi sono gli stessi allora non ti dico più che è bello cioè non voglio più il tuo cuore e la tua mente non mi interessa niente di convincerti basta che tu sei rassegnato al fatto che non è più bello ma è ineluttabile cioè non mi interessa convincerti mi interessa che tu ti rassegni al fatto che è così Versani l'altro al servizio pubblico su tutta la questione in tavola aveva fatto una figura da cioccolataio l'unica cosa che diceva è va fatta perché va fatta non è riuscito a dire una motivazione una che dicesse il perché andava fatta perché oramai era annichilito sul fatto che va fatta perché va fatta allora siccome la gente questo lo percepisce cioè la gente oramai secondo me ha capito infatti anche è la prima volta che la Val di Susa esce dalla valle abbiamo fatto una manifestazione a Roma con 10.000 persone sei mesi fa era impossibile una manifestazione così a Roma per il semplice motivo che la Val di Susa era considerata da un'altra parte cioè c'era la solidarietà diciamo astratta se chiunque diceva ma sì io sto qui in Ottavio ma l'idea di fare una manifestazione a Roma che avesse come unico obiettivo quella cosa lì era improponibile e invece è successa successa a Roma successe in tutte le città d'Italia quindi è come se si fosse un po' seminato il terreno arato il terreno e adesso le cose sono più comprensibili cioè la gente è più curiosa ha più voglia di capire meglio in questo senso secondo me attacca un ruolo forte perché non tanto nella produzione di lotte concrete in quanto attacche bastano anche perché il senso del limite è una delle cose che attacca sempre molto chiara non è che siamo decine di migliaia di persone che quindi possono autonomamente mettere in campo una cosa però attacca per storia per esperienze sedimentate per capacità interne la possibilità di da una parte aiutare tutti quelli che mettono in campo un conflitto a capire in essi cioè che c'entra il fiscal compact approvato dall'Europa con il fatto che domani privatizzano i beni comuni quello è attacca che lo può dire cioè spiegare ad ogni attivista l'acqua che è importante il fiscal compact per l'acqua o che è importante per la TAVO o che è importante per tantissime altre cose quello è il terreno in cui attacca può intervenire e dall'altra parte attacca è quella che può anche indicare quali sono le campagne possibili concrete che poi non farà solo attacca ma può fare con altri per esempio una delle cose in cui stiamo ragionando è la campagna sulla cassa depositi e prestiti perché di fronte a chi dice che i soldi non ci sono i soldi invece ci sono e allora lì c'è tutto un ragionamento possibile su cui stiamo lavorando e poi ne discuteremo anche nell'assemblea nazionale che faremo a fine marzo per costruire una campagna che abbia sostanzialmente lo stesso stile di quella dell'acqua ovviamente che inizierà con una marcia come è stata quella dell'acqua all'inizio perché non è un tema immediato non è un tema che tutti comprendono però ha una dimensione gigantesca perché sono 12 milioni di persone in questo paese che mettono i loro risparmi sui libretti postali i buoni fruttiferi postali questi soldi finiscono la cassa depositi e prestiti che fino a 10 anni fa le utilizzava per permettere ai comuni di fare gli investimenti a tasso calmerato da 10 anni a questa parte questo non succede più i comuni si sono infilati a indebitarsi con i vittori tossici dentro i mercati finanziari quindi lì c'è tutta una partita da giocare che tra l'altro può coinvolgere anche il singolo cittadino perché una delle possibilità è quella di costituire comitati di prestatori cioè di persone che mettono i risparmi in posta che cominciano a fare pressioni perché i loro soldi vengano utilizzati per il territorio e con alcuni vincoli sociali e ambientali adesso dico delle cose a voce alta ma per dare l'esempio cioè anche lì va trovata secondo me la campagna che ha degli strumenti precisi quindi che permette al cittadino che sta qua fuori se io gli dico guarda domani può fare questo lui ha la risposta e che nello stesso tempo però aiuta tutti qualsiasi lotta stiano facendo a capire che quello è un nodo centrale quello delle risorse della finanza della finanza pubblica della gestione partecipativa cioè secondo me la strada è un po' quella lì e a tac ci riesce se tiene insieme le due parti della sua azione che sono l'autoformazione e l'azione se noi ci fermiamo all'autoformazione diventiamo un centro studi presuntuoso, elitario che poi parlerà senza che nessuno lo ascolta se facciamo solo l'azione perdiamo l'elemento fondamentale che aiuta a comprendere l'azione cioè adesso uso il tuo esempio la campagna sull'articolo 18 la fa molto meglio la FIOM che a tac nel senso è chiaro che noi siamo solidali con quella campagna ma non c'è bisogno di attac perché sia decisiva la campagna sull'articolo 18 perché c'è già chi per storia, cultura forza, capacità la può fare con attac e dice certo noi stiamo con voi ci mancherebbe attac può aiutare intanto a capire cosa c'entra l'articolo 18 con la politica della Banca Centrale Europea e quindi aiutare chi fa quella lotta a capire qualcosa di più dei nessi e nello stesso tempo però attac può invece aiutare a mettere in campo delle campagne che aiutino anche quella battaglia lì perché vanno a toccare il nodo delle risorse e quindi c'è un'azione possibile che però va sempre tenuta insieme cioè noi dobbiamo sempre fare autoformazione orientata all'azione sapendo che c'è sempre un equilibrio fra le due cose se facciamo troppa azione rischiamo di essere una delle tante associazioni a quel punto uno perché è fatta che non fa qualcos'altro no? dignitosamente se facciamo solo l'autoformazione secondo me rischiamo di perdere il senso delle cose in cui stiamo io sono d'accordo anche con te quando dici poi tra l'altro la formazione si fa anche sul campo gli attivisti dell'acqua sono diventati tutte persone sapienti facendo le battaglie dell'acqua non facendo i seminari i seminari sono utili quando facendo la battaglia a un certo punto io capisco delle cose e ho bisogno di approfondirle e quindi subentra cioè secondo me c'è un percorso diciamo molto fertile in cui ATTAC può dare un contributo importante certo per poterlo fare occorre che ATTAC sia un'associazione che sta in tutti i territori possibili che si allarga che ha una sua fisionomia per cui che si capisce che uno che sta a Genova e uno che sta a Termoli in Molise sono di ATTAC non solo perché hanno la bandiera di ATTAC ma perché hanno un linguaggio comune nel senso un'esperienza condivisa e anche un profilo di un certo tipo e non abbattano